Bruxelles, 22 aprile 1725. Agenzia Nova. L'Unione Europea e il Messico sono arrivati all'accordo preliminare dopo mesi di intensi negoziati. Come sottolinea un comunicato firmato dai commissari europei Cecilia Malmstrom Commercio e Filogan Agricoltura e Sviluppo Rurale dal Ministero degli Esteri Messicani, il Defonso Guagliardo Villareal. L'intesa commerciale che le parchi stanno cercando di aggiornare risale a 18 anni fa e riguarda principalmente i beni industriali. Dalla firma, nel 2000, comunque, gli scambi sono aumentati del 148%.